Sì Questa volta siamo noi, qui, all'Urente Siamo campionerallittici È un sogno, ma siamo oltre il sogno Brave ragazzi Non ci sono parole 17-20 di fila Che squadra, che squadra Che cosa abbiamo visto, Fabrizio? Che cosa abbiamo visto? Io non lo so descrivere Anche perché l'ho immaginato tante volte In questo momento Il maschile, il femminile Siamo certi che toccherà anche la nostra nazionale maschile Magari molto presto Ma non me l'ho immaginata così Non me l'ho immaginato Un enorme monocolore azzurro È la vittoria di un movimento È la vittoria di tutti noi È la vittoria la più preziosa E insomma, sono felice Però non stiamo negri È uno sport di delegato a un evento impertibile È un evento ignorante Grazie a tutti.